ciao ragazzi oggi è il giorno del derby abbiamo deciso di regalare due biglietti a due tifosi milanisti insieme a puma football andremo allo stadio lo faremo con un ospite speciale di cui non vi dico nulla siete pronti andiamo se volete facendo lo shooting di dove c'è il nostro campo di san siro se volete partecipare fare qualche foto ciao ragazzi avete da fare stasera ma se vi dicessi che andiamo insieme a vedere il derby cosa ne pensate guardate qua no è dura vediamo grazie a tutti grazie a tutti e grazie a tutti un idea